Luc, una sconfitta fa sempre male, il punteggio è abbastanza netto, però si è visto un'altra Italia rispetto a sette giorni fa. Sì, penso che almeno questa partita abbiamo cercato di giocare un po' di più, perché la palla è in mano, che è un positivo, però ci sono ancora tanti negativi, troppi errori in difesa e poi troppi palle perse, come ancora la settimana scorsa. Finalmente, dopo che in tanti lo richiedevano, forse anche tu ci speravi, schierato nel ruolo dove ormai è il tuo ruolo. Com'è stata la tua partita da Estremo? Ovviamente mi trovo bene a Estremo e oggi mi sono sentata abbastanza bene dal risultato. vediamo nei prossimi tre partite cosa vuole fare il Cinti. Comunque uscire da Twickenham con tre mette segnate e alla fine, fino all'ora di gioco, aver tenuto quest'Inghilterra, che comunque non è proprio una squadretta sulla corda, può portare ad essere ottimisti per i prossimi impegni? Comunque abbiamo preso 47 punti, sono veramente tanti a questo livello. Ti dico, se avessimo perso da 10 punti, un 30-20, magari là lo puoi dire, ma a questo livello entriamo in campo per vincere, non per prendere 47 punti, quindi siamo tutti delusi, sappiamo che c'è tanto da fare, tanto da migliorare, ci spettano altre tre gare, è veramente difficile, dobbiamo essere il nostro livello. Se continuiamo su questo livello, troveremo sempre le sconfitte, quindi come squadra e anche individualmente dobbiamo essere il livello.